E' in edicola la seconda serie dei mini personaggi di Van Ten! Nuovi fortissimi alieni! Van Wolf, Van Mugna, Mille Occhi! Con ogni personaggio un poster spaziale! Segui le avventure sul magazine ufficiale di Van Ten! Preziosi collection! Van Ten! Tutti gli eroi alieni della mitica serie animata Trasformabili! Bestiale! Usano per proteggere i tuoi segreti! Inferno! Diventa una torcia! E in materia grigia un binocolo potentissimo! Scopli tutti! Da oggi in divertimento si trasforma! Giochi preziosi! Van Ten! E' arrivato Van Ten! Il nuovo eroe dai poteri straordinari! Van Ten può trasformarsi in tutti gli eroi che vuole! E niente può fermarlo perché è mea Van Ten! Bestiale! Due per due! Materia grigia! E con i mega personaggi le tue avventure non smettono mai di stupire! Scegli con il suo orologio Omnitrix quale alieno diventare! Nessuno può fermare Van Ten! Il orologio di Van Ten è anche in versione speciale! Van Ten è imbattibile! E' l'ora di Van Ten! Con l'incredibile orologio Omnitrix puoi trasformarti nell'alieno che vuoi! E niente può fermarlo perché è mea Van Ten! Il orologio di Van Ten è anche in versione speciale! Giochi preziosi! E niente può fermarlo perché è mea Van Ten! Niente può fermare le super sorprese della Pasqua Van Ten! Il lettore MP3 per sentire tutta la tua musica! Lo yoyo luminoso! Le vorticose tratture 3D non si firmano mai! Una super sorpresa in ogni uovo, impurissimo cioccolato o latte! Trovi le sorprese Van Ten anche nell'ovetto snack! Grazie a tutti!